Dal Vangelo secondo Matteo. È simile al lievito che Madonna prese e mescolò in tre misure di farina finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava di esse se non con parabole perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Gesù parla con parabole e parla del Regno dei Cieli perché il Regno dei Cieli va raccontato proprio con una storia non perché sia finto ma perché per comprenderlo abbiamo bisogno di avere delle immagini, delle esperienze vive ed efficaci. E allora dice Gesù che il Regno dei Cieli è simile a un granello di senape che è il più piccolo di tutti i semi ma una volta cresciuto è più grande delle piante dell'orto. Il Regno dei Cieli è una cosa piccola, è fatto di cose piccole, è creato da relazioni piccole e oggi tra l'altro la memoria dei santi Gioacchino ed Anna che sono i genitori di Maria e ci ricorda un po' anzi oggi Papa Francesco ha proprio istituito la giornata mondiale per i nonni e oggi proprio vogliamo ricordare la bellezza di queste figure che sono i nonni, queste figure molto semplici ma molto efficaci. Io lo sento molto come anche nei ragazzi che ascolto soprattutto in questo tempo di Campi Scuola e di Grest come i nonni sono veramente una figura fondamentale, importante per loro di esempio della fede e di esempio proprio anche di vita quotidiana. E allora in quest'oggi vogliamo pregare proprio per questi nonni, per quelli che sono ancora in vita perché sappiano essere proprio come questo granello di senape ma anche tutti noi. Perché nella misura in cui riscopriamo che questo Regno dei Cieli è come questo granello di senape sappiamo che non è una cosa inarrivabile ma è una cosa tanto piccola che ci viene incontro ma soprattutto che porta frutto già qui su questa terra.